Il sostituto procuratore della DDA di Reggio Calabria, Stefano Musolino, ha chiesto una condanna a 16 anni di reclusione per l'ex consigliere regionale della Calabria, Domenico Creazzo, eletto nel 2020 con la lista Fratelli d'Italia ed accusato di scambio elettorale politico-mafioso. Creazzo, imputato nel processo in corso a Palmi, scaturito dall'operazione EFEMOS contro le cosche d'Indrangheta di Santo Femme da Spromonte nel Reggino. Creazzo, che all'epoca dei fatti era sindaco di Santo Femme da Spromonte, fu arrestato 20 giorni dopo la sua elezione in consiglio regionale. Secondo l'accusa, avrebbe accettato la promessa di procurargli voto fatta dalla boss Domenico Laurendi, condannato a 20 anni di reclusione con il rito abbreviato nello stesso processo. Il PM Musolino ha chiesto la condanna a 18 anni anche per il fratello di Creazzo, Antonino, accusato anche lui di scambio elettorale politico-mafioso. La pena più pesante, 30 anni di reclusione, è stata invece chiesta dal rappresentante della pubblica accusa per Domenico Alvaro, 45 anni, considerato un esponente di spicco dell'omonima COSCA.